Quando abbiamo fatto insieme diversi concerti nell'Olma Hall, dove sono intervenute 15.000 persone e avevamo una tombola con un'auto, ti ricordi? Sì, una Fiat. Adesso che sei venuto per la prima volta a questa manifestazione di luci, colore e riflessione, che siamo già all'ottavo anno, cosa ne pensi? Ma è una cosa grande Giuseppe, una cosa mai vista nel mondo, questa che ha organizzato questa seda, eppure altri anni, è una cosa splendida per tutti i cittadini italiani e stranieri. Ma la cosa più bella è che abbiamo gente internazionale, abbiamo spagnoli, italiani, Eritrea, di tutte le nazioni, e tutti come fratelli, è una cosa meravigliosa. Ecco questi signori, da dove venite? Da Eritrea? Sono da Eritrea. Eritrea, alle persone, tutte le persone come fratelli, alle mettonate, per vi brudere, vi è una famiglia, alle positive. Perché sei bravo Giuseppe. Tutti bravi. Ognuno la persona, no, no, alle persone. Come Zavilli, che erano questi fatti? Questo è l'erste fatti che ho visto Gesù, è meraviglioso, perfetto, è davvero inizialmente il cuore. Grazie. Questa è una cosa spontanea, fatta di gente semplice, perché la felicità sta nella semplicità. Bene, qua abbiamo per esempio anche una ragazza dominicana, vuoi dare gli auguri a tutta la Repubblica Dominicana nella tua lingua? Ah, sì, bueno, le deseo a tutti felice Navidad e proprio Año Nuevo, che la passen bene junto a su famiglia e a sui seres queridos. Besito, lo salutiamo da qui, da Suiza, San Canale. Bye! Grazie a tutti. Grazie a tutti.